Il direttore di gara che controlla se c'è qualche buco in rete, è dalla sessione AIA di Chieti, di Santo, non potrei sbagliarmi. Allora per la sesta giornata di campionato provinciale, categoria allievi, il girone unico di Chieti, Miglianico Calcio, Virtus Castelfrentano. Adesso c'è l'entrata in campo. La Virtus Castelfrentano giocano la maglia bianca con i risvolti giallorossi, mentre il Miglianico Calcio con la divisa scura, calzettoni bicolore bianconeri. Adesso c'è Dondino, il nostro capitano numero 6 che fa il solteggio. Adesso va a controllare il direttore di gara l'altra rete. Quello del lato cimitero, pubblico delle grandi occasioni. Forse ragazzi, in bocca al lupo. Uno, due, tre, piga i debò. Ecco la nostra panchina. Guido già si copre le gambe come il vecchietti. Che ore sono ragazzi? Sì sì. Che ore sono? O chi guarda l'orologio? Aspetta, ok.